Siamo qua a Yodella, stiamo aspettando di imbarcarci, Gozzi ci ha fatto venire qua tipo quattro ore prima del volo perché aveva sbagliato a guardare sul biglietto e sto a aspettare, per fortuna anche qua ci abbiamo guidato ma forse è meglio non farvi vedere niente non fatevi fottere, andate al Carrefour, 26 centesimi, ragazzi 5200 al litro, ma dove la trovate un'acqua così? ma dai ragazzi non scherziamo, acqua nel Carrefour tutta la vita un breve riassunto dell'hotel, dell'ostello ma poteva andare peggio, poteva andare peggio beh, pensiamo al prezzo dai sono le docce per 46 persone ma siamo nel 2017 e tu ti fai ancora la doccia un 11 non basta indietro perché voleva vedere le porcellane si, fa tanto il figo, ma alla fine ecchi sta la giornata adesso si va alla Catedral si va alla Plaza de España e si mangia una espadrilla una cosa stessa si va a comandare la telecamera qua, così mi vedete bene ragazzi siamo messi malissimo c'è Radman che ci sta facendo da scerbo per portarci in stazione non so se ci arriveremo ma siamo disperati come faremo secondo il giorno a Madrid sembra di essere qua da un mese con la stanchezza che c'è addosso oggi Godi si è alzato alle... oggi si sveglia alle 6 e mezza c'era un filippino del cazzo di fianco a noi e si sveglia tutti alle 4 con la sua sveglia e adesso oggi si va al Prado no niente Prado, solo Liter no niente Prado però non lo so no 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 Allora, siamo qua al parco a sbaccarci. Adesso siamo carichissimi, veramente carichi da come potete vedere, per andare al museo Reina Sofia a vedere un po' di arte moderna. Cosa ne pensi, Della? Ricarico il ragazzo. E stiamo aspettando matte perché abbiamo fame, tanta fame. Dove andiamo a mangiare matte? Non lo so, hai ritratto il posto? No. Hola desaparecidos, si va a Toledo, dove è successo qualcosa e c'è qualcosa. Ciao. 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 che volendo avevano il settimo piperoncino più piccante al mondo perché qui in Spagna hanno una coltivazione apposta e avevano detto vabbè dai ci sta non mi ricordi come si chiama una cosa tipo guarapegno o cose così provo a darci un morso lo mangio eh lo faccio per voi rega è stata una brutta esperienza ho tipo bevuto 7 litri di latte e mangiato 8 pagnotte per riuscire a dissipare il dolore ma ne valsa la pena dai quindi si va al guggenheim portiamo pazienza pazienza e cazzo matte io appena ti vedo ti ammazzo dove cazzo sei ho fame guarda guido guarda non è più lo stesso anche per ora guarda guido guarda non è piatto all'impegno all'impegno My mind, I'm blinded by the light I close my eyes, I can't withstand I take away, you know I'll find that I just close my eyes I can't see the sun I just hold my face I'm cold to the day Buongiorno Buongiorno Si, mezzogiorno Parla luna È luna, ok Quasi operativi a luna Grazie a tutti. Abbiamo una stanchezza nel culo. Adesso andiamo sulla funicoli, funicola, funicoli, funicola, yam 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 yam. E poi si viene al museo che è gratis. Alla funicolare. Lolo è tra le coppie e le bici. Ora guarda il paesaggio facendo finta di disinteressarsi da tutto il resto. Ma lui soffre nel cuore. Soffre perché una bici lo sta tannagliando. Perché non va al museo? Io. Io. Senza Guido che ci ha lasciati. Mannaggia Guido. E adesso andiamo a mangiare al Burger King per festeggiare appunto che Guido se n'è andato. Gotti di bimbo felice. Solo perché ha mangiato. Cioè non per altre cose. E' da. Salve. Sì. E niente, presi male perché c'era il terreno pieno per il 10, per cui adesso stavamo cercando delle opzioni alternative, siamo andati alla stazione dei bus per andare a porto, ma sembra che l'Interren Pass non vaga un cazzo di tutto, ci faremo sapere. Non è vero, non mi ho ancora preso i biglietti. Vabbè, adesso lo vediamo. Cosa vogliamo noi da là? Andare via a Salamanca. Non oggi, non domani, possibilmente dopo domani. E ce la faremo? Ah, speriamo. Abbiamo cambiato destinazione una decina di volte. Siamo tornati e Porto non è andato in Porto, per cui andiamo a Seviglia adesso. Grande ragazzo, siamo a Seviglia. Tutti che fanno aperitivo presi bene, tutti che escono, e noi che adesso andiamo a fare forci da mangiare perché abbiamo fatto la spesa. Poveri ma felici. Siamo dentro la cattedrale di Salamanca. Siamo riusciti ad entrare a sgamo. Però faccio solo questa ripresa per il rispetto del signore. Chi è che vuole avere l'onore di provare la sorte? Provo io. Una mano ferma, regazzo. Rara foto di Don Quixote e San Ciopanzo che combattono i muli in a vento. Scemi! Dai, dai, dai. Sai chi è che ha dormito? Dove? Della, non puoi stare qua dentro. Dai, c'è un mondo là fuori da scoprire. Hai ragione. Dai, c'è un mondo là fuori da scoprire. 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 Bevuto molto perché comunque c'è proprio caldissimo. Caldissimo. Qua non potete capire. Si soffre proprio la disidratazione. Prendo un caffè perché sto collassando. Stamattina siamo stati a Plata d'Espania. Molto bello. C'è un altro giochino del cazzo. Saliamo sulla scala mobile, su un erettivo come un casa nobile. Andiamo al di là, sui chilometri a piedi. All'avventura! All'avventura! Non lo so ragazzi, non lo so, vi lascio così. Guido, acqua bassa anche qua. Aga massima. Studio filosofia? Sì! Siamo! Lo scopriremo nella prossima puntata. buona lezione. E per partigiano! Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. Ciao 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 in questa versione del partitano Ciao ciao C'è Matteo Noi siamo in Madrid in stazione Strano, è la settima volta che passiamo in stazione Ragazzi siamo tutti in the same zone Il parco posteriore La base ci manca qua Non funziona il cazzo di sistema E noi siamo bloccati Abbiamo fatto tutto in frettissimo Tutto il perfetto Grandissime recensioni Non ci vorrò mai più probabilmente Perché è uno schifo Qua c'è uno dei problemi fondamentali Che la fame si sta montando su Fame si sta montando su Fame si sta montando su E con le mie skills Ho imparato quello che mi serviva E vai Siamo con braccia rossa Prima classe, non si va da spese qua Offregoz Ci vediamo alla prossima viaggia See ya! Ciao! 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 Grazie a tutti.